Via Padova Ecco qui il semaforo che è rosso, arancione e arancione quindi di sicuro arriva qualche treno aspettiamolo il treno arriva da Genova o da Sestre Levante Chissà che treno sarà, boh un grande punto interrogativo anche per me aspettiamolo raga sto continuando ad aspettare ormai una quindicina di minuti e non passa nulla ma nulla di nulla raga se sì no sta arrivando no mi sono sbagliato che sto qua in il regionale da Torino Porta Nuova però comunque è già un regionale l'ho visto passato 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 niente raga non arriva si sta facendo notte raga forse e finalmente arriva quasi sicuramente un regionale cioè un rock un rock macchinista simpatico regionale 521 048 regionale Sestre Levante Savona raga era da tanto che non vedevo un rock in movimento raga intercity che non vedevo un rock Ciao